La Virtus Cupello espugna il Biondi. La scuola di Carlucci, grazie ad un rigore trasformato da Marinelli al diciostesimo della ripresa, supera il Lanciano 0-1, bissando il successo con il Ponte Romano. Buon primo tempo dei padroni di casa che mantengono il pallino del gioco, ma il Cupello appare ben organizzato in difesa e pronto a pungere in avanti. Gli ospiti sembrano iniziare la ripresa con un pillo diverso e trovano il vantaggio al diciottesimo su calcio di rigore, vantaggio legittimato anche da alcuni pericoli creati nei minuti successivi alla retroguardia frentana. Parte bene il Cupello al quindicesimo su un suggerimento alla sinistra di Berardi, Colitto, Cicca, La Sfera. Al ventunesimo una punizione battuta da Tafili, viene ribattuta con i puniti da Elesai, ma poi il Lanciano apprende i redini del gioco e al ventiquattresimo reclama un penalty per un presunto atterramento in area di Caniglia su Mariano. Al trentasettesimo buona manovra offensiva del Lanciano, con la buona che mette pericolosamente in mezzo, si rifugge in angolo la retroguardia, ospite. Sugli svoluppi del corner Daleno di testa manda di un soffio al lato. Nella ripresa al primo il Cupello reclama un rigore per un presunto mani in area di Daleno. Al sedicesimo il rigore viene assegnato per un mani in area di Labonia su cross di Berardi. Va la battuta Marinelli che spiazza Elesai, che mette a segno il suo terzo centro in questo campionato, quindi tre goli in due partite per il numero 9, Rosso-Blu, che esulta insieme ai suoi compagni di squadra. Cerca di reagire il Lanciano al trentasesimo con un calcio franco ad ottima posizione, Bocchio manda sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recupero termina 0-1 per il Cupello che rimane a punteggio pieno, seppur dopo solo due giornate, mentre i rossoneri rimangono fermi a un punto. Panfilo Carlucci, ottimo inizio di campionato per il Cupello. Dopo la rotonda vittoria con il Ponte Romano, ora avete spugnato anche il Biondi. Sì, effettivamente sei punti d'oro nelle prime due partite che forse all'inizio erano quasi impensabili. Sì, dopo un primo tempo forse un po' sofferto, nel quale comunque vi siete difesi bene, nella ripresa comunque siete usciti. Sì, avendo una squadra giovane, comunque poi nel secondo tempo hanno mantenuto, anche se il campo ha tagliato le gambe un po' a entrambe le squadre. Noi forse con qualche cambio siamo riusciti a mantenere lo stesso ritmo. Eh sì, ma il ritmo poi un po' si è abbassato, inevitabilmente le squadre sono allungate e forse è un fluido anche il momento della stagione e il caldo. Sì, sì, sicuramente. Il caldo che è un po' particolare per questo periodo e soprattutto questo campo che comunque ti taglia le gambe. I ragazzi adesso hanno tutte le gambe pesanti, quindi è stato un campo pesante per entrambi. E Giulio Odaleno sconfitta che non ci voleva? No, assolutamente no. Non era l'esordio che ci aspettavamo, ma come ho già detto anche ai tuoi colleghi, giocare in questo campo è difficile per chiunque, soprattutto per noi che non siamo una squadra comunque attrezzata a fare un tipo di gioco che si è visto oggi. La partita onestamente che penso che poteva finire in tutti e tre modi possibili, 1x2, intanto era un deciso da un episodio e così è stato. Sì, solamente un punto nelle prime due partite, però siamo solamente ad inizio stagione e per i prossimi turni si può sicuramente ripartire dalla prestazione, soprattutto nel primo tempo. Ma sicuramente, se siamo venuti qua, almeno io personalmente e anche molti di miei compagni, il mister, il direttore e tutta la società per fare un campionato di vertice. La parola vincere è una parola che non si usa perché è troppo presto, però sicuramente non da fare un punto in due partite. Però è andata così, sono frasi già fatte, è vero, però oltre che la settimana prossima a iniziare a lavorare in vista di San Buceto non si può fare.